Di sicuro Ghiglione, Tonghia e Dalmonte sono infortunati ed indisponibili per la sfida di lunedì. Forse il solo ex Juventus potrebbe recuperare per l'esordio in campionato. Il resto è un rebus tra calciatori in partenza ed altri che si spera potrebbero arrivare. Difficile però immaginare qualcuno già pronto per la Coppa. Così Martuscello pensa, medite e riflette sulle scelte che potrebbero cambiare anche nel giro di poche ore perché Petraghi è costantemente al telefono pronto a proporre e magari chiudere qualche operazione in uscita. Condizione questa fondamentale da Roma per dare il via libera a qualche entrata. Il principale indiziato a uscire è l'Assana Coulibaly. Sassuolo e Palermo lo prenderebbero volentieri con i siciliani che tra l'altro hanno qualche calciatore che piace ai Granata da proporre in cambio. Ma il Maliano dice no alla B, per ora punta la Serie A con il Lecce pronto a prenderlo certo ma non disposto a garantirgli lo stesso ingaggio di Salerno. Un milione lordo a stagione per altri due anni, se non spalmandolo almeno su una stagione in più. Si ragiona. E poi Daniele Ucchil, come ha chiesto notizie ma non ha dato per ora seguito all'interesse manifestato per il centrale che lunedì potrebbe essere uno dei titolari. Lo sarà di sicuro l'ultimo arrivato, il Thais. In uscita c'è Bradaric con lui maggiore, quest'ultimo potenziale titolare di Coppa ma con la testa proiettato al Trovempoli e Cagliari lo prenderebbero ma ad altre condizioni. E poi c'è il nodo legato agli attaccanti. Per il momento Martuscillo ha a disposizione di A e Simi. Entrambi sono in uscita per il senegalese però le trattative vanno a rilento e potrebbero sbloccarsi soltanto negli ultimi giorni di mercato. La Spagna in questo momento sembra la destinazione probabile per D.A., Viglia Real o Betis-Siviglia, per Simi come per altri però non ci sono offerte. Ed i movimenti in entrata sono fermi nonostante i tentativi del DS di convincere la proprietà a fare qualche eccezione per rinforzare sin da subito la Salernitana.